In questo video vi racconteremo la nostra morning routine. Al mattino il primo che si sveglia è Alexander. Ha fame e vuole la fata. Così la mamma si alza e va da lui. Arrivo Alexander, arrivo subito. Eccomi, la mamma è arrivata. Buongiorno amore mio. Lo coccola un po'? Ciao Adam. Buongiorno, buongiorno. Vado subito in bagno a lavarmi il viso. E poi va a cambiarlo. Passiamo una bella salviettina profumata. Ecco qui, un pannolino nuovo. Così. Dopo averlo cambiato, scende in cucina e gli dà un biberon di latte. Bravissimo. Poi mi prepara la merenda da portare a scuola. E ora tocca a noi. Mascia, Anna, sveglia. Ciao Anna. Ciao Mascia. Dopo esserci lavate la faccia. E aver fatto pipì. Scendiamo per la colazione. Buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno, principesse. Il tuo latte è pronto. Tutti noi facciamo una colazione diversa. La mamma e il papà con tè e biscotti. Io con succo di frutta e ciambella. Bella. E io con latte e cereali. Ma non dimentichiamoci di eppi e biscotto. La popolazione ci laviamo bene i bientini. Poi ci vestiamo e ci pettiniamo. Beh, in realtà, a me è mia pettina e la mamma. Ecco qui Anna. Ora sei pronta anche tu. Ecco, scarpe allacciate. Mascia, forza, è arrivato lo squalabus. Ok, arrivo. Ciao mammina. Buona giornata. Ciao Mascia. Ciao, ci vediamo oggi pomeriggio. Beh Anna, ora andiamo anche noi. Ok, sono pronta. Ciao, buona giornata a tutti. Ci vediamo nel pomeriggio. E ora che siamo andati via tutti. Bene Alexander, è ora della nanna. Eh già, Alexander è ancora piccolo. E ha bisogno di dormire spesso. Ora finalmente la mamma ha il tempo di cambiarsi. Io direi che questo può andar bene. E poi va a lavorare al computer. Mascia, incominciamo. Beato Alexander, che se la dorme di gusto. Allora, vi è piaciuta la nostra morning routine? Se sì, mettete un bel mi piace. Ciao, a presto. Ciao. Ciao a tutti. Dal momento che la nostra morning routine vi è piaciuta, in questo video vi mostreremo la night routine. Tutto inizia dalla cena. Finché io e Mascia giochiamo in cameretta, la mamma prepara la pappa ad Alexander. Ecco a voi. Buon appetito. Poi perlacchi e biscotto. E infine si dedica alla nostra cena. Questa sera pizza fatta in casa. Mascia, Anna, venite, c'è pronto. Forza, andiamo. Io ho una fame. Intanto arriva anche papà. Ehi, sono tornato. Ciao papino. Gnam gnam, troppo buona. Finito di mangiare, aiutiamo la mamma a sparecchiare. Grazie mille, Mascia. E a caricare la lavastoviglie. Grazie mille, bambine. Siete gentilissime. E finalmente ce ne andiamo in salotto tutti insieme. Adesso ti facciamo un po' di coccoline. Complimenti, Mascia. Hai fatto un disegno bellissimo. La mamma prepara Alexander per il bagnetto. E noi andiamo sempre con lei. Perché ci piace vedere il nostro fratellino nella vasca piena di schiuma. Che buon profumo di pulito. Ecco qui, bello asciutto e profumato. E ora, Anna, Alexander. E poi, tocca a noi. Prima ci mettiamo il pigiamino. E ci laviamo i denti. E ora, la fabbola della buonanotte. Allora, che libricino vi leggo questa sera? Mmm, io direi quello che abbiamo comprato la settimana scorsa. Ok, eccomi qui. C'era una volta in un palazzo un bambino. E alla fine il bimbo sorriso e felice. E dopo la favola? Bene, bambine. Ora è arrivato proprio il momento di dormire. Buonanotte a tutte e due. Ecco qui. La mamma ci accende la lucina della buonanotte. Buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte, mamma. E ci addormentiamo profondamente. Bene, il giro finisce qui. Speriamo vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima. Ciao. Buongiorno, buongiorno. 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 Pronti per andare in spiaggia? Sì. Ciao, amici. Oggi vi faremo vedere la nostra morning routine al mare. Cominciamo con il lavare bene la faccia. Ah, ecco fatto. Bene, Alexander. Ora tocca a noi. Ok. Oh, che bel panorama. Mascia, forza. Scendiamo a fare colazione. Eh? Ah, ok. Arrivo. Bene. Ora siamo in ascensore. Stiamo andando alla sala da pranzo. Arrivati al piano. Forza. Io ho una fame. Sì, anch'io. A chi lo dite? Mmm, quante cose buone. C'è l'imbarazzo della scelta. E ora una buona colazione. Ma, Mascia, non ti sembra di aver esagerato con tutta quella roba? No. Fare una bella colazione è importante. Ora direi di tornare in stanza, lavarci i denti, metterci in costume e via per la spiaggia. Oh, sì, non vedo l'ora. Si va alla spiaggia, si va alla spiaggia, si va alla spiaggia. Eh già, un po' di relax anche per noi. Non mi sembra vero di essere qui. Mi raccomando, bambini. Comportatevi bene e non disturbate le altre persone. Ok, mamma. Che cosa facciamo? Un castello di sabbia. Buona idea, Alexander. Per prima cosa, devi riempire il secchiello con dell'acqua. Ok. Buttala pure. Ora riempi il secchio con la sabbia bagnata. Ecco qui, schiacciamo bene. Provescelo. Ah, è venuto fuori un bel pasticcio. Beh, a volte succede. Possiamo riprovare? Ah, forse è meglio se andiamo a farci un bel bagnetto. Possiamo, mamma? Certo, Masha, andate pure. Andiamo! Ah, che relax. Che ne dite di giocare a pallone? Sì! Vai! Ora ci penso io! Ehi! Piano, bambini. Disturvate le persone. Ehi, mamma, guarda! Abbiamo sotterrato Alex! A me però è venuto fame. Che ne dite di un gelato? Sì! Certo che la vita di mare è proprio favolosa! Già! Dai, passa, Anna! Ecco, arriva! Forza, bambine! Dobbiamo cenare! Sì! Allora, vediamo un po' cosa ci hanno preparato quelli dell'hotel. Che fame! Per primo una bella insalata di riso. Speriamo non ci siano i peperoni. A me non piacciono. Neanche a me. Eh, no, Masha, niente peperoni. E vai! E poi dei tramezzini, alcuni al prosciutto e alcuni al tonno. Buoni, buoni, buoni! E infine un bel cesto di frutta. Il cocomero! Lo adoro! Sì, ed è rinfrescante! Proprio quel che ci vuole! Beh, io direi di cominciare. Ho una fame. Sì! Basta, bambine, raccogliete le vostre cose e andiamo. Arriviamo! Wow, la cena in spiaggia è stata super! E anche a me è piaciuta! Sì, è una bella alternativa. Ora che abbiamo spazzolato tutto, è meglio che mettiamo via e rientriamo in hotel. Oh, che peccato! Rimettiamo le cose in frigo. Masha, scrolla bene, così la sabbia scenderà. Ok! Mettiamo le scarpine. Bene, direi che siamo pronti a rientrare. Andiamo! Ok! E ora è una bella doccia. Sono piena di sabbia. Anche dentro il costume. Oh, che bello! Insaponiamoci bene. E ora risciacquiamo. Masha, muoviti! Ok, arrivo, arrivo! Il bagno è tutto vostro. Masha, ora che sei bella asciutta, asciughiamo i capelli con il phon. Ehi, bimbe, vi va di andare in spiaggia a vedere il tramonto? Sì! Avete visto che bello? Il tramonto in riva al mare è sempre magico. Già. Wow! È splendidamente splendido. Già. Ora che il sole è tramontato e sta facendo buio, che ne dite di andare a fare un po' di baby dance? Ok. Andiamo a scatenarci un po'. Bimbi, siete pronti per la baby dance? Forza, ballate con noi! La baby dance è sempre divertente. Che so, non sono troppo stanca. Sì, pure io. Silenzio, bambine. Ora siamo in hotel e non dobbiamo svegliare gli altri. Beh, la nostra night routine al mare è finita. Noi andiamo a letto. A presto! Ciao! Ciao!